Allora la situazione è questa, di nuovo il filo è inchiodato al cilindro quindi il cilindro nel suo tentativo di scendere, il centro di massa cosa fa? Se volete l'equazione del centro di massa è questa l'equazione che descrive molto attorno al centro di massa il centro di massa si muove, segue un'equazione di Newton, MA uguale a F dove M è la massa del sistema, A è l'accelerazione del centro di massa, F sono le forze esterne e vedete qua ci sono due forze esterne che agiscono, la forza peso e la forza che c'è tramite il filo cioè il cilindro sta interagendo con il filo, d'accordo? e chiameremo T la tensione del filo e sarà verso l'alto la forza peso agisce nel centro di massa, perchè? Siate pronti a rispondere quindi se io devo decidere qual è la direzione positiva mi viene naturale scegliere la direzione positiva in questo esercizio A verso il basso, quindi questa è l'equazione del moto del centro di massa quindi la massa per l'accelerazione del centro di massa è uguale alla somma delle forze esterne che sono applicate chiaramente in punti diversi AMG entra col segno più, T entra col segno meno quindi questo è verso il basso, questo è verso l'alto hanno i segni algembrici il moto attorno al centro di massa il moto attorno al centro di massa lo descriveremo con l'equazione del moto rotazionale di un corpo rigido, questo è un corpo che sta ruotando attorno a quale asse? attorno a un asse che passa per il suo centro è chiaro che man mano che lo yo-yo scende e quest'asse che passa per il centro si muove, è chiaro? non è un asse fermo nello spazio è un asse che passa per il centro dello yo-yo quindi questo è il momento di inerzia rispetto all'asse passato per il centro questo è la derivata seconda del parametro posizionale del cilindro ed è un parametro di tipo rotazionale e questo è il momento delle forze rispetto all'asse passato per il centro di massa quindi questa è l'equazione del moto attorno al centro di massa l'equazione del centro di massa, l'equazione del moto attorno al centro di massa cosa fa il centro di massa? cosa fa il sistema attorno al centro di massa? quindi io decido di seguire cosa fa il centro di massa e cosa fa il sistema attorno al centro di massa Quali sono le forze esterne e quali sono i momenti torcenti sul cilindro dovute le forze esterne? La forza peso che è proprio nel centro di massa non ha un momento torcente è l'unica forza esterna che ha un momento torcente utile per accelerare angolarmente il sistema ma attorno al centro di massa è quello del filo e si tratta di scriverlo con il segno algebrico corretto quindi se io decido che la direzione è positiva per il moto del centro di massa è verso il basso qual è la direzione positiva per quello che concerne il moto rotazionale? qua dovete un po' cercare di immaginare perchè se il cilindro è qua e vuole scendere il filo è alla sua sinistra e lui vuole srotolarsi lui srotolandosi gira in senso antiorario, è vero? quindi scendere vuol dire che il cilindro gira in senso antiorario e quindi la direzione positiva per il moto rotazionale del cilindro è uscente dall'avaglia quindi la direzione positiva è uscente quindi voi dovete chiedervi il momento torcente del filo cos'è? dentro o fuori dall'avaglia solo a quel punto potete mettere il segno algebrico ed è più perchè il momento torcente di questa forza rispetto al centro di massa questa forza applicata a questo punto è uscente chiaro? questo è il passaggio delicato dovete avere chiaro cosa si intende direzione positiva per un moto traslazionale è banale la forza sarà positiva se è nella direzione positiva e la forza sarà negativa se la freccia è in direzione sbagliata per il moto rotazionale dovete usare la mano destra sia per capire se questo voluta la direzione uscente e poi per segnare il segno algebrico al momento torcente a questo punto queste sono le vostre equazioni di nuovo faremo come abbiamo fatto prima il filo è inchiodato al cerino che equivale a dire nel contesto di ruote su strade che la strada non è ghiacciata quindi c'è un legame molto particolare che è questo che tenta due punti è legato a questa accelerazione ed è A diviso R questo viene dal fatto che l'arco la distanza lungo l'arco, la lunghezza d'arco che il chiodo seguirà se questo è il chiodo se questo corpo, se il centibasso scende 10 cm questo punto deve spostarsi di 10 cm lungo l'arco di cerchio si intende e quello corrisponde a una certa variazione angolare e quindi questa analisi geometrica dei cerchi la geometria dei cerchi con l'ipotesi che appunto il filo è inchiodato porta questa equazione e quindi questa qua la riscrivo così quindi la I come la scriveremo? la I la scriveremo come la massa del cilindro dello yoyo R quadro per un eventuale numerino a seconda di come è fatto lo yoyo quindi questa diventerà Km R quadro questo diventerà A diviso R e questo è uguale a T per R questa equazione qua di nuovo moltiplico per R a questo punto vedete che R non gioca nessun ruolo matematico perché c'è su entrambi i lati quindi il contenuto matematico di questa equazione è semplicemente Km A uguale T quindi il contenuto matematico di questa equazione quando riconoscete che il momento di inerzia è scritto così e quando riconoscete che questo è scritto così il contenuto matematico di questa equazione si riduce a questa quindi cancello qui avvicino a questo per poter poi quindi il nuovo sistema di due equazioni e due incognite non conoscete A non conoscete T ovviamente l'esercizio voi dovete calcolare T da soli io mi limito a calcolare A e la A è la più facile perché si ottiene sommando due equazioni quindi vedete questa ovviamente è la stessa massa ho usato due signori diversi scusatemi è ovvio che è uno di più io e ho perdonate ho cambiato l'operazione quindi questa M è la massa da io e ho quindi cosa ho? O M1 più K per A uguale Mg giusto? ho messo la M in evidenza ho messo la A in evidenza e mi rimane un 1 più K questa è la massa inerziale questa, guarda caso, vale esattamente la stessa cosa tutti i corpi hanno la stessa accelerazione in un campo gravitazionale uniforme ma Einstein dice per forza questa M e questa M si possono cancellare c'è tanto mistero lì non è un passaggio manale e concludete che A non è uguale G ma è 1 diviso 1 più K per G quindi se il filo si rompe questo va giù con l'accelerazione G se il filo c'è ed essendo inchiodato è costretto a far accelerare angolarmente lo yoyo ecco che l'accelerazione di caduta non è G ma è diverso da G e vedete anche che dipende da come è fatto lo yoyo non dipende dal raggio dello yoyo non dipende dalla massa vi stupite? no, perché è Galileo no quindi questa cancellazione qui è in fondo Galileo non vi dovete stupire che non dipenda dalla massa dello yoyo ma dipende da come è fatto lo yoyo quindi uno yoyo pieno e uno yoyo vuoto anche se hanno massi diverse anche se hanno raggi diversi quale dei due avrà un'accelerazione maggiore? quale? quale? quello pieno anche se hanno masse diverse non dipende dalla massa anche se hanno raggi diversi un yoyoione così o un yoyoino se sono fatti in maniera diversa scenderanno in maniera diversa con accelerazione diversa d'accordo? avete visto cosa ho fatto questa è l'equazione del moto del centro di massa questa è l'equazione del moto beh, non è questa l'equazione del moto attorno al centro di massa è questa qui poi dovete decidere come impostarlo c'è tanta fisica qua in questo semplice esercizio c'è un'ora di orale volendo quindi non è il saperlo fare il saperlo spiegare ah, facciamo un'altra cosa semplice perchè sono stanco anche oggi comincio a dormire male di sera perchè la temperatura sta salendo uno apre la finestra e poi a freddo e chiude la finestra poi a caldo e si sveglia e poi a freddo e si sveglia e tutta la notte apri e chiude la finestra una cosa semplice il bastone anzi preferisco fare questo pomeriggio preferisco battere il codo sulla storia della ruota allora moto del centro di massa moto attorno al centro di massa sto per disegnare una ruota e il disegno è una ruota rispetto al suo centro di massa il moto sta facendo così sta ruotando attorno al suo centro di massa ecco la ruota e immaginate che lui stia ruotando con un vettore omega entrante quindi cosa vuol dire vettore omega? la direzione di omega è l'asse e il verso di omega è il vostro pollice quindi se io dico che il verso di omega è entrante allora le mie dita mi stanno dicendo che questo sta girando in senso orario va bene? 3 omega è semplice quindi qual è il modulo di omega? è teta del punto la derivata dell'angolo rispetto al teta quindi questo punto qui se io vi chiedo che velocità ha rispetto al centro quindi io sto immaginando è il punto di considerare il moto attorno al centro rispetto al centro di massa è una ruota simmetrica quindi il centro di massa coincide con il centro geometrico quindi questo è il punto rispetto al quale io misuro la velocità vi richiamate che sono l'origine se volete quindi la velocità è uguale a omega vettor r quindi questo punto qua chi è il vettore r? è il vettore che va dall'origine al punto omega entra quindi io devo fare il prodotto vettore omega per r omega che è il mio indice questo indice medio pollice l'indice entra il medio punta dall'origine verso il punto eccola e vedete che la velocità è verso il basso quindi questo signore qua ha una velocità verso il basso ecco qua anzi fatemi fare in modo che io possa disegnare con l'apertura della mano rapida ok riesco a farlo quindi voglio che questa sia una velocità angolare costante direzione sempre entrante perché teta punto è costante quindi il modulo di omega non cambia ok? questo punto che velocità ha? usate la stessa formula e vedete che la freccia è così questo punto che direzione ha? questo adesso è il centro che velocità ha? ha una freccia così molto semplice no? questa è una ruota che sta girando e se io vi chiedo che velocità hanno questi punti che ho disegnato in periferia hanno delle velocità che sono così questo punto che sta a metà strada tra l'origine se questa distanza è r il raggio della ruota questo punto è r mezzi allora è evidente che il modulo di v è uguale al modulo di omega per il modulo di r per il seno dell'angolo l'angolo in questo caso sempre vale 1 quindi non ci sono problemi ma se io dimezzo questo cosa succede al modulo di v? dimezzo ok? quindi questo punto qui ha una velocità che è metà di questa quindi se metà è così io lo disegno così ok? questo punto che ha un quarto ha un valore che ha un quarto di questo ovvero metà di questo quindi così questo punto che ha tre quarti ha un valore che ha tre quarti di questo quindi se volete tre di questi quindi disegnate e il modo più semplice per disegnarlo è di immaginare sto disegnando da culo è più facile fare così e poi tracciare le linee ok? questo punto ha una velocità che è tre quarti questo punto ha metà questo punto ha un quarto quindi vedete l'andamento lineare sto cercando di rendere artisticamente tirando una retta e ognuna di queste frecce finisce sulla retta quindi il punto ha il centro non ha nessuna velocità più vi allontanate dal centro più la velocità cresce linearmente quindi potete immaginare di fare disegno simile se questo è il centro va così e quindi questo ha la velocità così questo ha una velocità così quindi questo è il moto di tutte le particelle tutti i punti del ceridolo rispetto al centro di massa il ceridolo sta girando a velocità angolare costante e quindi di conseguenza ogni punto ha una sua velocità che è questa è la rappresentazione va bene? adesso voglio che voi poi il disegno magari sarà pesante cercherò di farlo bene voglio che voi adesso immaginate che il centro di massa mi accorgo adesso che ho disegnato proprio male perchè di qua serve un bel cerchio questo non è il centro però dai perdonate un po' l'inesaporenza del disegno penso che abbiate capito adesso immaginate che il centro di massa si stia spostando verso destra ok? che questa ruota sta girando e si sta spostando il centro della ruota e il centro di massa si sta spostando verso destra e immaginate che la velocità del centro di massa se questo è il centro di massa voglio che la velocità del centro di massa sia un vettore che posso riprodurre facilmente ok? voglio che la velocità del centro di massa sia questa freccia qua questa è la velocità chiamiamola v0 ok? il centro di massa si sta spostando verso destra in quella velocità quindi questo punto qua che velocità ha? questo punto come dovreste sapere nella fisica di Newton con le trasformazioni di Galileo le velocità si sommano come vettori quindi se io vi chiedo questa è la velocità di questo punto rispetto al centro di massa ma rispetto al laboratorio questo è il laboratorio se questo centro di massa si sta spostando con questa velocità qua tutto si sta spostando con questa velocità questo punto che velocità ha rispetto alla lavagna? ok? quindi questo disegno era rispetto al centro di massa ma rispetto alla lavagna dovete immaginare che questa volta si stia spostando a questa velocità quindi questo punto che velocità ha rispetto alla lavagna? ha la somma di questa freccia più questa giusto? quindi io forse è già essicolorati sarà difficile questo disegno ma dobbiamo cercare di farlo oppure potrei dire guardate in qualsiasi libro e ci vediamo all'esame ok? quindi io devo fare la somma di questa freccia e di questa freccia e ovviamente con molta pazienza voi avete i fogli minimi tratti questo punto rispetto alla lavagna sta andando con questa velocità qua forse è il caso di cambiare colore se no non si capirà rapidamente nulla facciamo in rosso va? ok? qual è la velocità di questo punto? visto dalla lavagna la velocità di questo punto visto dalla lavagna è la somma della velocità del centro di massa più la velocità rispetto al centro di massa quindi è la somma di questa freccia è questa devo sommare a questo questa freccia qui è il modo migliore per farlo visto che questa freccia e questa freccia hanno la stessa direzione la somma è banale no? prendo questo e lo metto qua ed ecco che qual è la velocità di questo? allora sarà una cosa del genere questo punto ha questa velocità 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 questo punto a che velocità ha? dovete prendere questo e sottrarci questo quindi il modo migliore è di dire ho questo e devo sottrarre questa roba qua quindi come posso fare? facciamo così e prendo nota di questo eccolo qua d'accordo? ok? ci sono problemi? c'è qualcuno che non capisce che cazzo sto facendo? sto facendo la somma vettoriale di questa freccia più queste frecce in particolare questo punto qua il centro di massa che velocità ha il centro di massa rispetto al centro di massa? zero infatti qua non c'è alcuna freccia bianca quindi qual è la velocità del centro di massa? è proprio questa freccia qui quindi io potrei disegnarlo eccolo qua ok? questa è la velocità del centro di massa questa è la velocità di questo punto è chiaro a tutti? va bene? adesso guardate un attimo questo punto qua shhh supponete che io voglia che questo punto qua rispetto alla lavagna abbia velocità nulla cosa devo fare secondo voi? guardate come ho costruito questo disegno per far sì che questo punto qua abbia velocità zero cosa che non ha in questo disegno perché non ha velocità zero? perché la velocità la velocità della freccia bianca shhh silenzio per cortesia la velocità anzi meglio evidenziarlo con un colore io sto ragionando io sto ragionando di questo punto qua questo punto mi interessa questo punto qua io voglio sapere come faccio a fare in modo che questo punto abbia velocità nulla rispetto alla lavagna la velocità in questo disegno di questo punto non è nulla è verso destra con un certo modulo questa quantità qua perché questo valore è diverso da zero? perché questa freccia che evidenzio in giallo non è uguale a questa freccia qui non vi pare? perché questa rossa è questo meno se volete è la somma vettoriale di questa freccia e questa freccia che hanno direzioni opposte quando è che questa freccia rossa sarebbe zero? sarebbe zero se questa e questa fossero esattamente dello stesso modulo eh? sarebbero esattamente dello stesso modulo quindi con un disegno di questo tipo quale sarebbe la situazione? questa è la mia ruota disegno la velocità del centro di massa che è una certa freccia voglio che questo punto sia zero voglio che questo punto sia zero ok? quindi come potrei fare? io lo disegno poi voi ci pensate cercherò di spiegare il disegno perchè non posso costruirlo lo disegno poi lo commento ma voglio che notiate una cosa se questa verde dov'è il verde? ecco qua se questa verde e questa questa dal centro di massa magari uso blu o viola se questa verde e questa viola fossero esattamente dello stesso modulo la somma sarebbe nullo siete d'accordo? ma quale sarebbe la conseguenza su questo punto qua? perchè la freccia viola è questa questa qua è la freccia viola questa qua sarebbe doppio questo d'accordo? quindi faccio il disegno forse vedo che avete già capito faccio il disegno lo faccio così questo punto ha velocità nulla questo punto ha una velocità che è quello del centro di massa che sarebbe questo quindi la disegno ecco qua questo punto ha velocità doppia quindi se il disegno fosse stato fatto bene questo andava su così questo punto avrebbe avuto questa velocità questo punto avrebbe avuto questa velocità questo punto c'era 0 questo punto questo è la velocità che ho chiamato più 0 questa qua sarebbe stata 2 più 0 questa sarebbe stata 0 questo punto che velocità avrebbe avuto? questo punto qua quindi io sto facendo in modo che queste frecce la verde deve essere uguale a questa solo così questo punto avrà velocità 0 d'accordo? quindi la velocità che è qui è la somma vettoriale di una freccia lunga così in quella direzione e una freccia lunga uguale nella direzione verticale in qualsiasi punto in qualsiasi punto questo punto qua che velocità ha? è la somma vettoriale di questa freccia eccola qua la traccio leggermente e di una freccia che è in questa direzione che deve essere esattamente lo stesso modo eh? siete d'accordo? cioè io ho fatto il modo da zerare la velocità come si fa a zerare la velocità? l'unico modo da zerare la velocità è che queste frecce bianche qua quelle interferia quelle che hanno la massima distanza in particolare questa freccia questo è uguale a questo uguale a questo uguale a questa come modulo io voglio che questa sia uguale a questa quindi di fatto sto cancellando il disegno e sostituendo tutte le frecce bianche che stanno in periferia con una freccia lunga così d'accordo? si? quindi in particolare questa freccia che devo disegnare qua è una freccia che è la somma di questo più una freccia che ovviamente deve essere tangente al cerchio quindi devo fare la somma elettoriale quindi una freccia che è così questa rappresenta la velocità rispetto al centro di massa questa rappresenta la velocità del centro di massa e devo fare la somma elettoriale in modo più semplice e forse fare così e voilà ok? è un disegno che ha la sua complessità lo metto ma dovete lottare questo disegno dovete convincermi che se non c'è se non c'è nessun legame tra la velocità v0 la velocità del centro di massa e non c'è nessun legame con per esempio la velocità tra questa freccia e questa freccia che sono moduli completamente diversi allora questo punto qua non sarà fermo l'unico modo per far sì che questo punto sia fermo è che queste frecce periferiche devono avere questo modulo questo è il messaggio d'accordo? e quindi questa è la situazione di una ruota che rotola senza strisciare questo punto della ruota per un attimo è fermo e non è la stessa cosa ma c'è un'analogia mentre voi camminate il mio corpo sta avanzando ma il mio piede per terra per un attimo è fermo è una cosa sinera non so se vi ricordo che c'era come si chiama quel fumetto con qui qua qua? sei il topolino no? ma non era lui il protagonista c'era l'archimede no? come si chiama l'inventore? ogni tanto c'era qualche stupio disegno in cui c'erano bastoni così e qua sull'estremo c'era una scarpa no? avete mai visto? quindi questa è una ruota che rotola rotola senza strisciare come si scrive? strisciare? così? cioè che il punto d'appoggio della ruota è una ruota idealizzata ovviamente una ruota vera non fa così una ruota vera non è un cerchio che tangente della strada è una ruota vera è che se voi appoggiate una ruota sulla strada si cedono due cose la strada leggermente si deforma e anche la ruota no? se voi siete su una strada molto rigida allora la strada non si deforma ma se la strada è di fango la ruota deforma la strada no? fa un buco ma anche la ruota se non è un cilindro d'acciaio e se è di gomma quando voi la appoggiate lui si deforma adesso non so disegnare la deformazione ma solo appoggiata farà una cosa del genere sarà piatta poi una cosa del genere no? è deformata la ruota gommosa su una strada d'acciaio eh? quindi le ruote vere le strade vere non sono rappresentate così questa è una idealizzazione stiamo facendo idealizzazioni poi i meccanici in particolare magari capiranno ma la cosa interessante è che una ruota vera che avanza cosa succede? che la strada continua a deformarsi perchè questa è la fotografia questa è la fotografia in un attimo poi la ruota si è spostata no? la ruota si trova qua e la deformazione è qua e anche la ruota continua a deformarsi silenzio! una ruota vera cosa succede? che la parte deformata della ruota continua ad essere aggiornata no? perchè la ruota gira quindi questa deformazione si propaga nella ruota e anche la strada deformazione si propaga questo è uno dei motivi per cui la ruota si ferma perchè tanta energia va a continuamente deformare la ruota e la ruota non è un elastico perfetto si scalda eccetera ecco perchè le ruote si fermano perchè devono tirarsi fuori dal buco devono fare il buco e devono continuamente deformarsi quindi tanta energia invece di rimanere energia di movimento va a deformare la strada e la ruota comunque questa è un'idealizzazione che faremo nel corso fisica del metallo no? quindi la ruota è rigida la strada è rigida il punto di contatto è un punto e dire che la ruota è rotta senza strisciare vuol dire questo disegno vuol dire questo disegno che questo punto per un attimo è fermo non sta strisciando eh? non sta strisciando questo punto striscerebbe se questa è la strada vedete questo punto si sta muovendo striscia e cosa farebbe? sapreste fare il disegno con la velocità del centro di massa che è lì così ma con la velocità omica che esce dalla lavagna con tutte queste frecce che girano in senso opposto come cambierebbe il disegno? che questo punto invece di strisciare in avanti striscerebbe indietro per esempio solo se questa freccia bianca periferica è esattamente nello stesso modulo questo punto rimane fermo provate a fare il disegno sfidatevi a fare questo stesso disegno cioè frecce di modulo diverso ma anche questa freccia invece di andare verso il basso andare verso l'alto provate a farlo costruitelo se lo fate una volta non lo dimenticherete mai più se non lo fate rimarrà fumoso e all'orale mi accorgerò fate il disegno fatelo ma non fatelo esattamente al modo che l'ho fatto io modificatelo convincetevi che questo punto avrà velocità 0 se le frecce periferiche hanno esattamente lo stesso modulo ma fate il disegno opposto dove la freccia periferica invece di andare verso il basso va verso l'alto e abbia un modulo diverso in questo caso l'ho fatto più piccolo di questo se ce l'avessi più grande fate il disegno dove le frecce periferiche hanno un modulo maggiore di questo sfidatevi se no io mi accorgerò l'orale mi accorgerò come no un po' di esperienza so quando un studente ha studiato ma non ha ben capito allora dipenderà da come è l'esame no? va bene queste cose io intendo per rotolo stesso senza strisciare e la matematica di questo è che v0 questo v0 che è qui che è la velocità del centro di massa deve essere uguale a ωr dove ω è il modulo del vettore se io ho questa relazione allora il punto è fermo perché ωr cos'è? questo è il raggio del cerchio quindi questo che è a sinistra questo che è a sinistra questo che è a sinistra è la velocità rispetto al di un punto periferico e come ho conseguito questo disegno no? questi punti periferici hanno questa velocità perché sono la distanza r giusto? e dire che la velocità di un punto periferico è proprio uguale alla velocità del centro di massa è proprio la condizione che mi garantisce che questo sia fermo è chiaro? quella formula è la condizione che la ruota avanzi senza strisciare e che il punto di contatto però per la punto non striscia ok? quindi per esempio se io ho una ruota questo è il discorso che facevo prima della strada ghiacciata che non intendo ridisegnare l'albero deve essere molto chiaro immaginate che questa sia una ruota che stia avanzando non necessariamente su una strada è in uno spazio avete due moti il moto del centro di massa e il moto attorno al centro di massa in generale questo oggetto avrà una certa velocità del centro di massa e ci sarà una certa velocità angolare che può essere qualsiasi valore e io per esempio supponiamo che esca e il fatto che esca magari la faccio così perchè questo rappresenta la direzione delle vostre dita ok? e scrivo con omega la velocità angolare ovviamente è perpendicolare al disegno se io vi chiedo qual è l'energia cinetica di questo corpo lui ha due tipi di moto ha il moto del centro di massa e il moto attorno al centro di massa allora l'energia cinetica rispetto all'avagna è la somma delle due energie cinetiche è un teorema che abbiamo dimostrato e lo chiedo all'orale vi ricordate il teorema? quindi abbiamo un mezzo se la massa della ruota è mvcm quadro ovvero questa è l'energia cinetica portata dal centro di massa pensata come punto come punto materiale poi c'è il contributo all'energia cinetica attorno al centro di massa e io questa qua la scriverò così ho il mezzo I omega quadro invece della m ho il momento di inerzia ovviamente rispetto al centro di massa quindi questo è ICm un'asse passante per il centro di massa quale? magari questo certo la ruota continua a muoversi quindi il centro di massa si sposta e l'asse però è sempre passante per il centro di massa perpendicolare alla ruota questa è l'energia di movimento complessiva della ruota il moto del centro di massa e il moto attorno al centro di massa ma questa Wcm e questa omega in generale non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro la omega potrebbe essere zero e il cilindro avanza senza girare su se stesso la omega potrebbe essere uscita da lavagna quindi lui avanza e la ruota sta girando nel senso antionario la velocità angolare potrebbe essere entrante quindi la ruota avanza e sta girando nel senso orario in generale non c'è nessun collegamento tra i due ma adesso aggiungo la frase questa è una ruota su una strada che avanza rotolando senza strisciare cosa dico con queste parole in più? dico che c'è un legame tra Wcm e omega e qual è il legame? è questo qui quindi la frase questa è una ruota che rotola senza strisciare vuol dire che avete questa condizione da imporre è una specie di equazione ausiliaria ok? e quindi se io vi chiedo qual è l'energia cinetica di una ruota che rotola senza strisciare voi subito invocate il teorema di energia cinetica ed eccola qua, la scrivete boom! poi imponete la condizione ausiliaria che questa omega non sia un valore qualsiasi ma sia dato da questo quindi per esempio scrivete che omega è uguale a Wcm diviso r quindi questo diventa quindi questo diventa scrivo qua giù quindi punto esclamativo e mi riprendo qua giù quindi avete un mezzo Amvcm quadro più I per omega quadro ma omega è vcm diviso r al quadrato questa è l'energia cinetica di una ruota che è rotola senza strisciare ma è una ruota e l'asse che mi interessa è quella passata per il centro di massa quindi questa è la ICM l'ho già detto e la ICM la scriverò così come la massa della ruota uso lo stesso simbolo l'errore che avevo fatto prima avevo usato M maiuscolo stesso simbolo la massa della ruota il raggio quadro della ruota per un numerino che mi dice come è fatta la ruota questo numerino è un mezzo uno se è una ruota piena e uno se è una ruota la bicicletta d'accordo? a questo punto io sbato questa espressione qui tracca salute allergia a rocciodoro l'energia stamattina l'avevo stannutito trenta volte adesso mi è passato ma tra le otto e otto e mezzo ho avuto una crisi terribile c'è un anti-staminico molto buono si chiama Zyrtec non so se lo conoscete molto buono a meno a me funziona senza darmi fibrillazione shhh perchè gli anti-staminici sono dei eccitanti cardiaci quindi se avete problemi di cuore tenetevi lo stannuto un mezzo ah manca un mezzo qua ah manca un mezzo anche qua a caso cosa è successo? lì sul topo? cosa è successo? non sento? l'avevo scritto un mezzo qua l'avevo cancellato l'avevo scritto un mezzo qua vedi c'è l'un mezzo che ho perso le strade quindi vedete ho il mezzo in comune ho la m in comune e ho anche il vcm in comune metto in comune questa formula è interessante è interessante questa formula mi dice che l'energia cinetica non dipende dal raggio della ruota però dipende da com'è fatto certamente dipende dalla massa questa è la massa della ruota ma dipende da com'è fatto va bene quindi se voi vedete arrivare se voi vedete arrivarvi addosso a una certa velocità un cilindro pieno e uno cavo con la stessa massa qual'è quello che trasporta più energia? qual'è quello che farà più danno no? se vi viene addosso cos'è? è quella vuota quella che ha la k più grande quella che ha la k più grande è quella che trasporta più energia a parità di velocità a parità di massa è quella tipo bicicletta che trasporta più energia va bene